Mamma la prepotenza! Abbiamo appena scaricato God of War e adesso ci si fionda subito nel gameplay per vedere che cosa ci può regalare questo gioco, visto che mi è costato 70 euro per avere, che cosa? I fumetti in più? Che non posso neanche registrare perché mi hanno detto non si può perché se no spoileri le cose. Va bene, non importa. Switch. Switchato, eccoci qua. Figa è grosso, figa pienezza, guarda come si stringe i polsini della Urban Lifter, pronto per le alzate. Eh? Che ti ho detto? Io ho un tronco così, 500 kg, frivolo, easy, leggero, c'è Arnold muto, c'è proprio strongman puro. Mi ci muovo? Alla faccia. Boia la grafica, boia la prepotenza del massello, con l'ascia tutta elaborata, tutta segnata. Cos'è che vuoi tu? Non ho padronanza del mezzo, ho il tronco in mano, pesa troppo, non posso guardare il mio figlio rincoglionito. Sali, pirna. Bravo. Figa, il bambino la varca, noi il tronco, ci si lancia col... proprio si nuota a cavalluccio del tronco. Ragazzo. Eh? Sì, 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 che ti ho detto io? Butta il tronco, il tronco si fa trascinare dalla corrente, figa tira il ragazzino, sveglio il vichingo. Basta così. Basta. Studiato in nautica quest'uomo. Pelato, barba, gli alberi marchiati, segui la corrente del fiume. No, no, pure remo. Come si fa? L per la direzione della barca. Ah, ma sono io che traino il tronco, cioè proprio allenamento duro, strongman puro. Qualcosa è cambiato, dice il fupo. Tutto è cambiato, imbecille. Non pensarci, pirla, allenati. Guardalo, guardalo, guardalo. Adesso monto sopra, c'è come un 4x4, montiamo su, cerchio. È appassionante, la grafica è sublime, stupenda, piacevole, gradevole, apprezzo. Proprio si tira i tronchi come... devo abbassare il volume, mi ci viene un riverbero nelle orecchie. Eccolo qua. Proprio lo tira su, leggero, proprio puristirolo. Ok. Questo è l'ottimo. Hai visto come la mette col gancetto? E te la pianto lì. E se parli proprio ceffoni qua nella nuca. Non mi faranno mica pilotare il bambino, voglio pilotare il vichingo Massello, con la pienezza, con il braccio che... Qualcuno sta male qua, ragazzi. Presumo la mamma del pupo. È proprio morta questa. Andata. Ecco, là io vedo mia madre. Dove? L'acqua qua? No, là. È lì? Lì o là? Là io vedo mia madre. Ululì, ululà. Occhio che spingi, la butti giù. Cioè, comunque hai la forza del vichingo, eh. Anche se pupo. Mi emoziona. Guarda i muscoli come sono fatti. Il pettorale è pulito, senza ginecomastia. L'addome è proprio pieno. Le vene, striato. Avranno di sicuro usato me come controfigura per fare... Hanno scaricato una foto da Instagram mia e l'hanno messa di sicuro. Proprio sereno. Musiche epiche. Sì. Scotta, ma lo... Tienilo, pirla. La tua debolezza. Era suo. Adesso è tuo. C'è proprio il brain. Sono dentro il vichingo. Sono vichingo. Lo si capisce. Lo si evince dalla... Dalla... Dalla massa. Cerchio per oltrepassare la voragine. Guarda come salta. Proprio zompella come un capretto. Wow, che ninja. Sì. Il vichingo è affaticato. Piano. Piano. Eh. Ti ho imparato così io la caccia? Sì, padre. Mamma la pienezza. Abbatte le cose proprio... Ah, la riprende con la... È poderoso, c'ha magia. Lui la richiama con le cose. Eccolo lì. Eccolo lì. Fermo. Fermo. Che scappa di nuovo, imbecille. Ma che stai facendo? Eh. Ora è più guardingo. È guardingo. Devi tirare. Quando te lo dico io... Mi agita? Devo prendere le proteine? Eccolo. Non dispiace. Fa di meglio. Fa di meglio o ti dispiace? Di senti come mi hai agitato? Trovalo. Trovalo. Vai. Di come mi hai agitato. Devi prendere le proteine. Eccolo. Ecco. Vai. È guardingo. Oddio. Mamma che bello. Gameplay puro. Ma le... Proprio le... Mamma lo sbrindello. Faccio polvere. Ma... Lo scudo. Tra l'altro... In quei 70 euro che ho speso. Per l'edizione qua. Super scaricabile. Dovrei avere anche degli scudi. Scudi più masselli. Virili. Ma quello... Un spacco proprio pesante. E via. Facciamo un po' ci do da sotto. Lo apro a metà. Guardate che grafico. Cioè ammirate. Le costruzioni vichinghe. Curate nei minimi dettagli. Lassù. Su. Là. Un po' scattoso questo gameplay. Come mai? Sarà perché sto registrando? Faccio la play 4 proprio. Cazzo. Tutto uno scatto. No. No. Col cerchio. Posso usare l'arco? Sì. Lascia colpirlo da qui. Non sembri tanto convinto. Meglio avvicinarsi. Eh. Aspetta che bevo le proteine che sono dopo non salto. Via. Cerchio. Mamma mi ha portato a caccia molte volte. Eh. Sta zitto. La madre era incoglionita. Ma che fine ha fatto? Easy. Bello. Gioco di scudo. Proprio. Vero combattente. Ma da dove gli salta fuori lo scudo? Cioè proprio lo apre. Lo si apre a ventaglio? Come. Mamma mia. Easy. Easy. Easy man. Easy. E da sotto lo sbidale è proprio potente. Mandamene ancora. Ne voglio ancora. Dove fai? Eh? Eh che fai i giochetti? A me? Oh. Qualcosa dovrà aprire. Eh. E cosa la apre? Dai. Quanti bestiari mi dai. Bisogna aprire lì. C'è un di sicuro. Qualche ingranaggio. E se tipo passo sotto qua con. No non ci passa. È troppo pienezza. Troppo massello. Troppo pienezza massello. C'è proprio la tira così. Eh però torna giù. No. Grazie a tutti. Dove? Dove? No. Ma congela, nasce anche congelatrice. La riprendiamo così, easy, frivolo. E mi scatta tutto. Ma la scatta... Per provare tutto a scatti sto gioco. Bravo, cretino. Due ore per prendere un cervo era un metro e mezzo. Ciò fare pure io di cervo. Piantalo! Piantalo! I sensi di colpa ti faranno soffrire per il resto della tua vita. Ecco boia! Cazzo! 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 Bello, bello però! Bello! Uuuuh! Ma cosa serve che mi prenda una Playstation 4 Pro? Se mi va a scatti e non ho neanche messo grafica come priorità. Ho messo prestazioni. Sono addirato. Che fa? Sì, è comodo. Sì! Oh, quante domande! Siamo a casa, dai! Oh, perfetto! Allora, switch grande. Ed eccoci qua. Allora, come prima parte di gioco direi che è andata bene. A parte gli scatti che non so cosa sono dovuti. Se sapete perché la mia Play 4 va a scatti con un gioco cazzo comprato apposta per la Play 4. Non so cosa fare. E ho anche messo la grafica al minimo. Comunque, questo è il gioco. Spero che sia stato utile. Guarda, scatti mentre giro così. Vabbè, voi non vedete, ci sono solo io. Comunque, spero che sia stato utile così uno se vuole comprare se lo compra. La mia opinione è che è una gran figata. Una grafica da spavento. Una meccanica di gioco facile, veloce, spacchi a mazzi. Veramente divertente. Ma io sto scaricando un vero gioco. E spero che sia pronto. Call of Duty Modern Warfare 1. Vi aspetto online. In picco con questo.